Eccoci qua, questo è il muro del Consiglio regionale del Lazio, oggi è il giorno successivo alle dimissioni della Presidente Volverini, era il giorno in cui la Presidente ci doveva dire i tanti scheletri nell'armadio che aveva trovato e per ragioni istituzionali non ci aveva raccontato e oggi invece di raccontarci queste cose oscure ai più che ci doveva svelare cosa ha fatto? Ha tappezzato Roma di questi manifesti che come vedete sono manifesti abusivi attaccati su un muro e l'unico regalo che ha fatto al Consiglio regionale invece di raccontarci cose che non sapevamo è questo averlo incartato e averci fatto dono di un pacco dove appunto lì l'incarto è pieno dei suoi manifesti abusivi. Ora facciamo pulizia, dice la Volverini purtroppo dovremmo fare anche pulizia dei suoi manifesti.